Che hai da guardare Fred? Niente. Io non ho questa sensazione. Hai problemi con me Fred. Ehi avanti, lascialo perdere. Va bene. Sta guardando come se fossi uno che ammazza la gente. Ehi Fred, chi era a scuola che ti prendeva calci nel culo tutti i giorni della settimana? Eri tuo buono. E chi era quello che strisciava a terra come un verme mettendosi in ginocchio e chiedere pietà? Ero io. Ricordi bene. Se non vuoi riprovarlo ancora, è meglio che tieni gli occhi bassi quando guardi in questa direzione. Va bene. Mi piace terrorizzarla. Mi diverto. Forse stai esagerando. Perché non la smetti? Questa te la lascio passare, considerando che tu mi hai salvato la vita comportando di Danilo. Non dirmi mai quello che devo fare.